Non è soltanto il derby di Genova durante il campionato, ma questo è un derby che vale tre quarti di stagione per entrambe le squadre. Sono questi ultimi 360 minuti, compresi quelli di domani, che sono di vitale importanza. È dura per noi, ma è molto più dura per chi insegue comunque. La posta in palio è altissima e i calciatori lo sanno benissimo. Valore importantissimo per l'obiettivo, ma poi è moltiplicato perché cade nel giorno del derby o cade perché devi giocare il derby di Genova in una partita che vale tre quarti di stagione per entrambi. Se tu ambici a giocare ad alto livello, vuoi essere un calciatore di alto livello, perché chi gioca in Serie A è un calciatore di alto livello. È chiamato nella sua carriera calcistica ad impegni come questo e devi esserne all'altezza. Giochi anche per quel tipo di adrenalina. Questa partita ci misurerà come misureranno i nostri avversari e come misurano tutti quei calciatori che sono chiamati a giocare quelle che noi riteniamo siano partite importanti. Non c'è nessun timore, c'è soltanto la consapevolezza di poter essere il protagonista e di essere chiamato a rispondere a questo tipo di situazione essendo nell'altezza. Siamo avanti di cinque punti, quindi quello che è contro la nostra partita. Ho detto che per noi è dura, ma per loro che inseguono è ancora più difficile, perché poi alla fine la sintesi reale è questa. Qui mi aspetta una gara tosta, cattiva. Non certo Manchester City e Real Madrid. Sicuramente non sarà quel tipo di partita. Molto agraria, molto sporca, molto combattuta. Perché comunque il Genoa è una squadra che assalta, gioca in maniera diversa rispetto all'Ellas, tanto per fare un paragone. L'Ellas fraseggia e ti trova spazi, il Genoa salta ed è molto più di profondità. Quindi mi aspetta una partita sporca, dove noi dobbiamo starci dentro quello sporco e dentro quello sporco ricavarci spazi di qualità. I nostri tifosi hanno sempre risposto presente. Non è che una domenica sì, una no, una nì. Hanno sempre risposto presente. In casa, come in trasferta e come consuetudine in tutti quelli che sono gli appuntamenti in hotel, nei pre-derby. Penso che lo stadio domani sia stracolmo. Sicuramente sì, non so quanti. Forse mi hanno detto 23.000, non so quanti. Brucerchiata, perché comunque giochiamo in casa. E so che come sempre loro faranno molto di più della loro parte. Grazie a tutti.